Oh mannaio la puttana oh 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 I'll handle things from here on Bene Bene eccoci qua Questo è Ghostrunner Ragazzi ciao a tutti e bentornati Sul canale io sono Imur E noi siamo su questo Nuovo tra virgolette Gioco allora l'ho trovato su GeForce Now è in demo Questo gioco Ghostrunner Questa è la versione il primo E' uscito nel 2020 Poi vi dirò anche perché Sto portando questo gioco Tanto vorrei abbassare un pochino Il volume quindi Facciamo così Andiamo su settings Audio No più che altro la musica Voglio abbassare Ok ci siamo Vabbè questo va bene così Vediamo se c'è pure l'italiano Non penso Oh c'è l'italiano Invece si c'è l'italiano Vabbè perfetto Bene Allora S Sì 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 Ma aspetta ho sbagliato No L'ho fatto in casa Applica Audio Vabbè perfetto Ok ci siamo Siamo in italiano Allora ragazzi Perché sto portando questo gioco Perché Magari vi metto anche in Vista così Perché Praticamente questo gioco Su Epic Games Attenzione Dall'11 aprile A quanto ho capito Sarà gratuito Si potrà riscattare È un gioco del 2020 Però insomma Poco male Se ce lo possiamo prendere gratis Ce lo prendiamo gratis In questo momento Ci sono due giochi The Out of Worlds E poi Tiff Gratuiti Fino all'11 aprile Su Epic Games Che possiamo riscattare gratuitamente Quindi Se non ce le avete Andate a prenderli E dall'11 aprile Appunto c'è Ghost Runner Il primo E noi ci giochiamo Perché abbiamo a disposizione La demo Su GeForce Now Che sicuramente Non è un gioco completo Ma comunque ci fa capire Un po' come funziona È un gioco Che onestamente Io non ho mai giocato Non ho mai giocato Questo Questo mi ricorda L'inizio Un po' Non so voi Mi ricordo Un po' Warframe Sbaglio Non lo so Oh Fanculo Non so perché Non so perché Non si mi ricordo Warframe Ma il parkour Di Warframe Tutta un'altra cosa Onestamente Senza offesa Questo gioco È un'altra cosa È un'altra cosa Mi sta abilitando Altre cose Che secondo me Miglioreranno Il movimento Io sono Caduto qui Ok Devo 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 abituarmi Con i tasti Perché Il movimento Potre Potenzialmente Attenzione No Mi ricordo Troppo Warframe A per schivare Ma io Perchè Ma Vaffanculo È troppo Veloce Cioè Questo gioco Bellissimo C'è una grafica Spettacolare Allora Uno L'abbiamo Spaccato Dobbiamo andare Dall'altra parte A spaccare L'altro Porca Troia Questo pezzo È difficilissimo Io non lo so Forse Sto sbagliando Qualcosa Oh Mannaglia La puttana Oh Ne manca Solo uno Bastardo Manca solo Sto Bastardo Allora Ci buttiamo Così Eh no Oh Ci buttiamo Così Non lo so Ma Curo Bastardo Porca Troia Non è possibile Oh Ci sono Ci sono Ci sono Un botto Io ho tagliato Perché Sennò Si sentiva Di tutto Mi eliminavano Da youtube Praticamente Perché Che troia Difficile Usa Le superfici A tuo vantaggio Come si scivola Così Ok No Ecco Devo prendere La mano Ma questi qua Comunque Assurdi Eh Questo Questo è Difficilissimo Ok Siamo salvi Pare Cioè Non salvi Allora Dovremmo andare Di lì E poi C'è il bastardone Che è lì Vediamo Uh Vaffanculo Vaffanculo Sì Ci siamo Ah Ok Oh No 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 Non ti prego Ce l'avevo fatta Vaffanculo E poi Ti fanno Confondere Capito Dice Dove cazzo Vado Per nasconderti Vai Nei posti Che In cui non devi andare Praticamente Te la prendi Te la prendi nel culo Praticamente Un altro L'ultimo È lì Bastardo Ladro No Stavolta Stavolta Vai Fa il culo Quanto dura Sto gameplay Un casino Manca quello lì Quel bastardo Quel bastardo lì Manca Vaffanculo Muori Mamma mia Dai Perché si sta allontanando Di qua Ah Unlocked E poi qua Che devo fa Ovviamente la E Quanta minuti Ci ho messo Ragà Voi ci metterete Sicuramente meno Molto meno Quanta minuti Sto video sicuramente Durerà tipo dieci Ma meno Meno di dieci Durerà Tipo tre minuti Porca troia Allora se avete Difficoltà A farlo È normale Se non avete Difficoltà Io sono A pippa Dove Dove sono le cose Perché è impressionante Ma allora Ho perso Tanto tanto tempo Veramente In un punto In cui dovevi Dovevi Saltare Da una cosa All'altra Dove c'era Quella rampa A curva Praticamente È la prima Rampa A curva Nella prima Rampa A curva Ho avuto Difficoltà Perché non Mi attaccava Il personaggio Per correre Poi ho capito Che devi guardare In direzione Di dove devi andare Per prendere Un po' La scia Cioè Per attaccarsi Devi guardare Da quella parte Praticamente E allora Lì sì Ma l'ho fatto Un miliardo Di volte Porca troia Questo video Durerà pochissimo Comunque Bel gioco Mi piace Vabbè Bisognerebbe Riscattare Il gioco Completo Vi ricordo Che l'11 aprile Su Epic Games C'è questo gioco Completo Che possiamo Riscattare Bel gioco Però A me Personalmente Fa pescemiare Tantissimo Mi fa dire Un casino Di parolacce E mi fa Incazzare Tantissimo Tantissimo Però bello Bello Mi piace Mi piace Perché è Tipo una sfida Cosa bella Che Se ci colpiscono Anche una volta Moriamo Se cadiamo Nel vuoto Moriamo Dobbiamo fare Tutto giusto È un gioco Veloce Però Secondo me Non è proprio Velocissimo Secondo me In alcuni punti Bisogna anche andare piano Effettivamente Il fatto che Sembra così tanto Dinamico Ti fa mettere Fretta Di fare le cose E sbagli per quello Infatti la maggior parte Delle volte che ho sbagliato È stato per quello Allora ragazzi Ci vediamo Al prossimo video Io vi saluto Ovviamente Ho portato anche I due video Su Winter Survival Lo so Sono lunghi Sono lunghi Sono video Che durano 1.50 minuti Circa L'altro 1.18 Però Un bel gioco Merita Fatemi sapere Cosa ne pensate Su questo Tutti gli altri Giochi che ho messo Supportatemi Iscrivetevi al canale Perché Ne ho bisogno E Soprattutto Commentate Scrivendomi Magari Qualche gioco Che voleste Voi vorreste Che io Portassi Porca Troia No Non mi ha fatto uscire pazzo Sto cazzo di gioco Mi ha fatto uscire pazzo Vabbè Comunque Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Divertitevi Ciao a tutti